Il consigliere regionale Tommaso Pellegrino ha raccolto il grido di allarme lanciato da numerosi comuni affinché si eviti l'anticipazione del 10% sui finanziamenti del PSR della Regione Campania. Il consigliere ha presentato un'interrogazione nel question time del Consiglio regionale. Proprio in questi giorni c'è un grido d'allarme che è stato lanciato dall'Anci in riferimento alle difficoltà finanziarie in cui versano diversi comuni italiani, alcuni dei quali anche in condizioni di predissesto. L'oggetto della mia interrogazione riguarda alcune misure del PSR della nostra Regione. Queste misure prevedono anche l'anticipazione del 10% da parte della pubblica amministrazione, quindi in particolare ovviamente da parte dei comuni. Ovviamente capiremo che le difficoltà economiche molte volte possono determinare anche un mancato accesso a questi finanziamenti che si traduce inevitabilmente in una mancata realizzazione di servizi per i nostri cittadini. Ovviamente mi fa piacere sottolineare che queste misure sono finanziate al 100% da parte della Regione Campania, ovviamente per quanto riguarda le spese ammissibili. Ciò che io ho raccolto da parte di diversi comuni, a dire verità, da parte di diversi sindaci mi hanno rappresentato questa problematica e questa difficoltà. Quello che io chiedo nell'interrogazione è quello di prevedere un percorso che possa soprattutto agire sugli aspetti tecnici e devo dire che già in passato il Presidente De Luca è andato incontro a questo tipo di esigenza da parte dei comuni. Quindi c'è un percorso che possa prevedere degli accorgimenti tecnici per evitare l'anticipazione da parte del 10% dei comuni. E va detto e voglio dire che mi fa piacere che sia presente l'Assessore Caputo e lo ringrazio ovviamente perché già ha manifestato la massima volontà a dialogare e trovare appunto una soluzione che vada incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri comuni. Ovviamente questo che significa? Significa che nel momento in cui noi andiamo ad agire da un punto di vista tecnico per evitare l'anticipazione del 10% determiniamo un vantaggio non soltanto una facilitazione economico-finanziaria ma anche una facilitazione burocratica-amministrativa. E anche qui voglio sottolineare che la parte della Regione Campania dell'Assessore Caputo, proprio sul proposto dell'Assessore Caputo, si sta agendo anche sull'ente pagatore da parte proprio in riferimento ai PSR dove ci sono state diverse criticità e dove devo dire una delle problematiche più sentite è proprio la certezza dei tempi dei pagamenti. E su questo si sta agendo in modo concreto andando verso quel processo di sburocratizzazione che possa agevolare i nostri comuni, i comuni della Regione Campania e metterli in condizioni di poter realizzare delle opere, quindi dei servizi per i cittadini in modo efficace e concreto. Grazie.